Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Alert che vi parla, sono qua con tutte quante le informazioni di Liberty Falls che hanno rilasciato al Call of Duty Next per quanto riguarda la mappa, il gameplay e tante altre meccaniche che magari già viste su Terminus che torneranno anche su questa mappa o altre cose totalmente nuove per questo zombie. Come sempre ci hanno mostrato a schermo il gameplay trailer che è il seguente, comunque abbastanza corto che non ci mostra tantissimo, ma ci sono ovviamente alcuni elementi interessanti che hanno poi in seguito spiegato per bene. Infatti nonostante le due ore di tortura precedenti col multiplayer, siamo finalmente arrivati alla sezione di zombie di questa streaming che in tutto è durata veramente tanto, in cui Kevin Drew, director di Black Ops 6 Zombie e altri sviluppatori, hanno approvato veramente tante meccaniche per quanto riguarda questa mappa Liberty Falls e di sottofondo c'erano tanti gameplay di molti dei creator presenti proprio al Call of Duty Next che hanno giocato in primis con mano questo zombie. Quindi tolta tutta quanta la mia Nvidia, abbiamo anche tantissimi gameplay purtroppo di persone non per forza adatte a zombie che hanno giocato appunto questa mappa. Fortunatamente altri creator un pochino più interessanti come Mr. Dalek JD, Lego Unlocked e DK Dynamite, che sono vi ricordo creator di zombie, ci hanno mostrato alcune cose aggiuntive e il buon Dalek ha anche scoperto qualcosina per la mappa, per quanto easter egg sia principale che secondari fossero ovviamente staccati per evitare di averci dei vantaggi per quanto riguarda la easter egg hunt che vedremo al lancio per questa mappa. Andrò quindi molto velocemente per tutte quante le informazioni importanti che abbiamo visto o a voce da Kevin Drew e altri o direttamente dal gameplay per quanto riguarda questa mappa. Avrete di sottofondo tutto quanto quello che hanno mostrato al Call of Duty Next, ma utilizzerò principalmente le informazioni riportate da Margoa Network su Twitter che sono un pochino più centellinate perché voglio parlare con calma di tutto quello che abbiamo visto. Cosa molto importante, questa è la pianta della mappa Liberty Falls, sia normale, ma anche la versione in tattica con tutti i dettagli, è oggettivamente una mappa abbastanza piccola, considerando anche la parte della chiesa nel Dark Eater dove c'è il Pack-a-Punch, che è comunque soltanto una chiesa, non c'è molto altro come punti di interesse. È una mappa di media grandezza, poco più piccola di The Giant per fare un esempio, contro invece Terminus che sembra essere una mappa veramente molto molto grande. Nella mappa sono presenti, come ho già visto anche dal trailer, un paio di trappole, una è una Dark Eater Field Generator, quindi un generatore per il Dark Eater che uccide degli zombie, e un'altra molto interessante nel negozio di fumetti, è invece un supereroe con un raggio laser dagli occhi che uccide tutti quanti gli zombie nella zona e fa anche ogni tanto un'area a passaggio per uccidere tutti quanti. Sembra essere quest'ultima trappola molto molto potente e molto divertente. In aggiunta in questa mappa sono nuovamente presenti i Vermin già visti su Terminus, per cui quelle specie di ragni che saltano fuori dagli zombie, che in seguito si possono anche evolvere nei parassiti già visti su Shadow of Evil, ed è presente anche un round speciale dedicato proprio a questi Vermin. Inoltre è presente l'abominio, già visto su Cold War e in parte anche su MV3, sotto forma di Mega Abominio. In questa mappa sono inoltre presenti diverse zipline come Mawar der Toten, per spostarsi molto in fretta per la mappa e anche leggermente in verticale. Proprio sopra un tetto infatti c'è l'Induttore di Furia, ma anche il Wunderfitz, con i suoi 8 perk di questo Black Ops 6 e lo spazio per adesso vuoto di altri due perk, che probabilmente vedremo nel corso delle prossime stagioni e si spera che non siano per forza dei perk di ritorno, ma magari qualcosina di nuovo, anche se una double tap non mi dispiacerebbe. Questa per dire la scremata del Wunderfitz con i perk presenti, che vi ricordo costano sempre di più a seconda del nostro numero di perk attuale. Non c'è infatti un limite per questi perk, possiamo averli tutti quanti tranquillamente, ma ogni perk aggiuntivo che compriamo farà costare in successivo altri 500 punti in più. Inoltre, cosa molto interessante a mio parere, l'annunciatore in questa mappa che legge i bonus e altre cose è il Rinnegato. Questo è un pochino collegato al trailer che abbiamo visto, dove Samantha in qualche modo fa sparire Rick Toffin e anche altre persone qui a Liberty Falls, e si intrufola nel contenitore in cui è quindi presente il Rinnegato, che secondo me lo utilizzerà in qualche modo per tornare in vita o comunque scappare dal lettero scuro, ma questo ci fa pensare che il Rinnegato è quindi ovviamente ancora vivo e potrebbe essere ancora una minaccia. Seguendo un pochino tutto quanto il gameplay visto dagli YouTuber, creator, streamer, tutti quanti, quelli presenti all'evento, ci hanno mostrato tantissimo della mappa ed è un pochino già visualizzabile tutto quanto il layout, tutta la questione della pianta che prima ho mostrato, comunque orientarsi è molto molto facile perché appunto la mappa non è gigantesca. Ci sono alcuni puntini di interesse con tutte le porte da aprire, inizialmente va accesa la corrente, è aperto quel piccolo portale che ci porta alla chiesa, dove è quindi presente il Paka Punch. È presente nella cassa la Jet Gun e la Ray Gun, non sembra per adesso essere presente la Wunderwaffe, come vista dal trailer in mano a Rick Toffin. Per quanto sia disponibile da comprare sullo shop di Call of Duty, soltanto 425€. C'è chi potrebbe farlo, tipo il mio amico Zeus, o chi potrebbe non farlo. Come ha accenato prima ci sono delle zipline con cui muoversi in giro, e la cosa interessante è che tutti quanti i nemici, ovviamente oltre a droppare materiali o anche granate letali e tattiche, possono droppare delle piccole chiavi con cui aprire degli armadietti per dentro trovarci del loot. Questa è una cosa che arriva direttamente da estinzione, in cui appunto potevano prendere delle chiavi e aprire armadietti con dentro delle armi. Per quanto riguarda la storia ci sarà ovviamente una main quest e anche qualche piccolo easter egg secondario. Inoltre hanno già confermato che in stagione 1 arriverà la versione guidata di questo easter egg, come sempre per tutti quanti i player che hanno più difficoltà con l'easter egg invece non guidato. Durante la live ci hanno mostrato qualcosina per quanto riguarda la Jet Gun finalmente, che ovviamente non si rompe in questa mappa. Sembra essere molto potente e mi ricorda il suo utilizzo vagamente la RIP di The Machine. C'è infatti un primissimo attacco che risucchia tutti quanti i nemici e per dire anche i materiali per terra possiamo raccoglierli, e in seguito una specie di esplosione come attacco secondario, che se fatto caricare al massimo ci surriscalda l'arma, scaricandoci colpi da 100 a 0, ma creando un'esplosione gigantesca che ucciderà tutti gli zombie intorno a noi. Non so di via per quanto riguarda il tempo di ricarica di queste munizioni e quale sia la potenza di quest'arma. In streaming ci hanno mostrato più volte il Pack-a-Punch Tier 1, mentre il buon Mr. Alec JD l'ha potenziato al 2 e al 3, mostrandoci anche le mimetiche di Pack-a-Punch. Non sappiamo appunto se il danno è infinito per fare round alti, lo scopriremo in seguito giocando la mappa. Altre cose interessanti che abbiamo visto durante queste partite, e tutte le altre meccaniche che saranno presenti anche in Terminus, in maniera un pochino più precisa. Per fare un esempio, questa è la schermata per quanto riguarda l'arsenale, con i potenziamenti di realtà dell'arma, e gli ultimi livelli sono molto molto costosi, con 2500 e 7500 materiali per le rarità più alte in assoluto. Contando che hanno rimosso i materiali rari, un pochino ci può stare. Discorso simile per quanto riguarda le armature di livello 2 e 3, che costano rispettivamente 6000 e 14000 punti. Ancora una volta non sono più con i materiali ma con i punti normali, e devo ammettere che nelle mappe around in realtà questo numero di punti si fa secondo me abbastanza in fretta. Abbiamo poi potuto vedere altre meccaniche nuovamente già presenti anche in Terminus, ma in maniera un pochino più precisa perché questo appunto era un gameplay a tutti gli effetti. Abbiamo visto qualcosina per quanto riguarda le gabblegum, di ritorno vediamo arsenal accelerato, dono temporale, qui proprio no, oltre che sugli scudi, che si ricorda era già citato anche nel blog. Vediamo anche la meccanica di estrazione e tutte quante le killstreak, anche da craftare al tavolo da lavoro, sempre con i materiali un pochino più costosetti, ma comunque non in maniera eccessiva. Vi ricordo inoltre che teoricamente su Black Ops 6 ci sarà un limite di 3 auto-animazioni in partita, presumo in singolo, per evitare di comprarle all'infinito, come già fatto su Cold War. Altra cosa che ho notato è che il costo delle munizioni nelle casse sembra essere un pochino basso. Non ho capito se c'è un aumento nel corso dei round o col potenziamento delle armi come era in Cold War, ma ogni tanto ho visto delle munizioni da mille punti che mi sembrano veramente pochi. Considerando che anche nel blog citavano il fatto di rendere i round alti un po' più difficili di Cold War, si spera che questa cosa ci abbiano pensato e magari questa non fosse la build definitiva, per quanto riguardava lo zombie di Black Ops 6, cosa molto probabile. In aggiunta a questa ultima news, ma secondo me molto molto importante, il direttore Kevin Drew ha confermato l'arrivo di una terza mappa zombie a round entro la fine dell'anno, il che la mette molto probabilmente al lancio della stagione 1, che vedremo a novembre o dicembre di quest'anno, poco dopo il lancio di Black Ops 6. Io come sempre posso sperare e sognare di vedere una mappa zombie a round nuova ogni singola season, per arrivare poi a un totale di 8 per Black Ops 6. Mi sembra un pochino improbabile, ma comunque come inizio per questo nuovo zombie, sicuramente ottimo. Quindi ragazzi, queste erano praticamente tutte quante le informazioni che ci hanno mostrato e detto al Covduty Next, per quanto riguarda questa mappa Liberty Falls. Alla fine la parte di zombie è durata circa 25-30 minuti massimo, per cui già hanno comunque mostrato tante tante cose e dato diverse informazioni. Di questo ne sono molto molto contento e siamo totalmente pronti per giocare tutto quanto con mano al lancio. Nuovamente invidio tantissimo chi l'ha provato direttamente lì all'evento, perché deve essere stato molto molto figo e divertente. Siamo comunque noi tutti quanti pronti perché è già partito il plot della beta e presto potremo giocarla per comunque avere un feeling del gioco. Sicuramente ci sarà qualche mio video appena uscirà fuori. Io come sempre vorrei sapere le vostre opinioni per quanto riguarda tutto quanto questo reveal della seconda mappa zombie Liberty Falls e tutte le informazioni che ci hanno scaricato addosso, che sono oggettivamente veramente tante, che fosse per gameplay, che fosse per storia o altre cose, personalmente sono abbastanza in hype per questo gioco e non vedo l'ora di provarlo. Per quanto molte persone ho sentito che non fossero contentissime di tutte queste somiglianze a Cold War. Io personalmente me l'aspettavo veramente tanto, però ovviamente vederlo con mano è diciamo la conferma definitiva. Il video quindi si concordo è qui, spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Ovviamente in descrizione ci sono tutte quante le fonti del video, assieme anche ai miei social tra cui Instagram, Twitch e canali Discord. Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Ava.